intanto aspettiamo se qualcuno si vuole collegare e partecipare stasera è più tardi delle altre volte mi rendo conto insomma un po' più tardi e poi il film è più lungo di due ore e quasi due ore e venti per un film iraniano è una cosa strana qualcuno già mi ha scritto e mi ha detto non ci sto a capire niente ma che film effettivamente stasera ho voluto un po' cambiare nel senso che è un film sicuramente un po' diverso dagli altri che abbiamo visto fino adesso un film sicuramente è molto molto particolare mi ne rendo conto e può anche insomma non essere che né compreso né magari apprezzato in fondo perché non è un film facilissimo mi rendo perfettamente strano un bel po' è sì molto molto strano molto molto strano spero che lo abbiate visto tutti dall'inizio perché secondo me ci sono due tre elementi che sono importanti proprio dalle prime primissime battute del film l'altro io qui vi metto in link della recensione che ho scritto oramai un paio di anni fa quando ho visto il film la prima volta perché questo è un film che è andato nel Festival di Venezia nel 2020 quindi diciamo l'anno della pandemia l'anno proprio dell'inizio della pandemia è un film che poi non ha avuto distribuzione capisco anche che in questo caso non è un film facilissimo a distribuire in Italia perché invece in Francia, in Canada credo anche negli Stati Uniti o nel Regno Unito sia stato distribuito cioè averlo, essere riuscito a vederlo in, non vi racconto tutte le peripezie ma insomma per averlo con i sottolinei italiani non è stato semplicissimo perché non è un film facile cioè nel senso che non è un film che abbia avuto una vita commerciale particolare qualche, intanto non so se c'è qualcuno appunto che vuole entrare magari ecco lo faccia presto io qui rimetto in sovrimpressione rimetto anche il link che avevo messo prima chi volesse basta cliccare sopra e entra qualche piccola notazione mia così tanto per aprire un po' le riflessioni è un film che chiaramente riprende come filo conduttore e l'incendio del Cinema Rex che non so quanti di voi conoscano bene nei fatti su Diluso trovate tutto anche sul canale YouTube mio poi lo linkerò magari con l'incendio del Cinema Rex anzi adesso che ci sto già lo ricerco e poi lo rimetto è il 19 agosto del 78 quindi siamo proprio nelle prime anzi scusate, nelle ultime battute della rivoluzione nel senso che entriamo nella fase finale della rivoluzione negli ultimi mesi quelli più drammatici e succede una tragedia incredibile nel senso che ad Abadan una città che è sul Golfo Persico un incendio uccide oltre 400 persone all'inizio del film questi fatti vengono riportati gli incendi del Cinema in quel periodo non erano una cosa rara però venivano assaltati generalmente quando erano chiusi anche una persona che conosco mi raccontava di quando andava con lo zio ad assaltare lui era poco più che un ragazzino andavano ad assaltare i cinema che proiettavano film occidentali ritenuti portatori di corruzione nella linea di quella parte di oppositori dello sciac che si rifaceva ai dettami più intransigenti di Khomeini avete visto anche in una scena i quattro tentatori dicono ma qui che sono i militanti di sinistra non li odiamo io i militanti di sinistra la cosa strana è il fatto che questo film Gavasna 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 sì Gavasna vuol dire cervi non era un film diciamo commerciale era anzi un film che aveva stento avuto il visto dalla censura dello sciac perché era un film diciamo socialmente impegnato potremmo dire di sinistra tra le ipotesi che in realtà gli attentatori non si siano resi conto che la programmazione del cinema era cambiata negli ultimi giorni e quindi assaltarono un cinema una sala cinematografica pensando che inizialmente ci fosse un altro film in programmazione la cosa particolare è che come ne riportano nel film dei quattro assaltatori dei quattro attentatori tre ne muoiono nell'incendio l'ultimo sarà arrestato processato poi condannato a morte e giustiziato dopo la rivoluzione e era un tossicodipendente che era stato avvicinato ad elementi diciamo vicini a oppositori estremisti religiosi diciamo che sbollagli insomma potremmo definirli ma la cosa clamorosa è che questa tragedia questo attentato una strage veramente incredibile finì per spostare l'opinione pubblica contro lo Shah cioè la cosa abbastanza folle è che scusa ecco non mi sono rimesso togliamo tutto la cosa folle di tutta questa situazione è che questo fu uno dei passaggi che determinarono poi la caduta dello Shah cioè dopo il 19 agosto del 78 la data non è casuale perché era il giorno del golpe contro Mossadegh quindi insomma in molti ci vedevano comunque delle coincidenze anche come data che erano diciamo di carattere contro lo Shah ma insomma è un po' strano le come si dice le entrate le porte chiuse dall'esterno questo è vero i ritardi negli soccorsi il fatto che si fosse poi fuori che fossero fuori norma ma tutto questo perché diciamo la savacca avesse motivo di ordire insomma di mettere in atto un attentato come questo non c'è non aveva molto senso tanto che alla fine infatti venne anche trovato uno dei colpevoli che confessò e ammise quelle nostre motivazioni e le modalità dell'attentato però è uno dei due passaggi questo e venti giorni dopo la strage di piazza Jalè a Teheran che determinano come dire un cambio totale dell'opinione pubblica contro lo Shah io in questo film ci vedo un po' come l'inizio del come appunto l'inizio dell'incendio quello che porta a tutto un avvenimento una serie di conseguenze una serie di di altri avvenimenti più o meno voluti anzi spesso probabilmente non voluti e che portano porteranno poi all'Iran attraverso questi 40 anni fino ad arrivare ad oggi è tutto molto molto simbolico molto giocato su questo gusto molto anche molto cinefilo queste citazioni questo gioco un po' cerebrale che fanno lì nella foresta così come tutti i rimandi ad altri film la scena all'inizio del museo del cinema con tutte le come dire anche anche un come dire le citazioni avete visto la locandina di close up che c'è nella nell'ingresso del cinema e l'omaggio anche a Beirouz l'attore iraniano questo gusto molto molto potremmo dire anche intellettuale di Sharon Mokri io lo trovo interessante Mokri è un regista che a me piace molto ho visto un altro film suo non so qualcuno l'ha visto che era Fish and Cat ma Eva Gorbet costituito da un intero un unico piano sequenza un film del 2013 che ero anche tentato di farvi vedere anche lì è una storia che trae spunto da un fatto vero da un fatto di cronaca nera anche quello è messo in scena con una cosa abbastanza molto molto ardita un film che è composto da un'unica piano sequenza in interrotto che poi è stato ripreso da qualcun altro in cui queste operazioni sono anche sempre un po' così sconfino una volta nel manierismo anche dimostrare quanto si è bravi da un puntista tecnico però secondo me è un molto molto particolare sì esatto grazie Sara che rimetti la citazione qui rimetti appunto il link al blog a diruso sì in effetti Maiva Corbea a me non aveva entusiasmato cioè non mi ha convinto questo altro film mi ha convinto molto nel senso che mi è piaciuto moltissimo quando l'ho visto la prima volta oggi rivedendolo ammetto che ha dei dubbi avvertiti allora non ultimo la durata non ultimo come dire anche insomma forse degli eccessi diciamo di alcune di alcuni passaggi che sono effettivamente un pochino esagerati insomma si pretende forse un po' troppo al buon al buon spettatore che insomma si mette lì per per seguire un film e si ritrova insomma anche insomma se vogliamo anche a un affascinante gioco di cinema però insomma non è non è molto non è sempre facile allora io qui vi metto il il link qui alla cosa del cinema Rex che è un video una pillola di pochi minuti che spiega nel in breve cosa cosa accadde al cinema da Badam il 19 agosto del 78 qui lo condivido solo un attimo per farvelo vedere ma non non è non è fondamentale vederlo adesso cioè è un è semplicemente un una pillola di di un minuto e 43 che spiega un pochino come 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 andò quella cosa però insomma qui vi metto c'è il link ci potete andare se volete insomma approfondire un pochino e sì ecco insomma diceva Sandra una cugina di mio marito morì in quell'incendio del cinema Rex ad Abadana che comunque fu una cosa terribile io vi vorrei far vedere ma adesso poi volevo anche sentire un po' da voi le cose preferireste vedere nei prossimi appuntamenti del Cine Club perché è un film un documentario molto bello molto duro che però ha pochi dialoghi e però non è sottotitolato in italiano questo alcuni dei miei problemi sono questi alcuni sono sottotitolati in inglese quindi io non so quanti poi di voi abbiano piacere e difficoltà magari invece a seguire un film sottotitolato in inglese in italiano non c'è sempre tutto io devo dire alcune cose mi sono messo un po' a lavorarci però insomma diventa un lavoro veramente mossoso e un documentario che qualche volta ho citato si chiama For Freedom cioè Barai Asadi ed è un documentario con delle immagini incredibili veramente ma anche di una qualità incredibile perché erano girate all'epoca e sono rimaste quasi intatte insomma era una qualità ottima ancora oggi quel documentario inizia proprio con la tragedia del cinema Rex cioè il conto alla rovescia verso il caos io l'ho chiamato così a un certo punto nel mio libro Iran 1979 cioè l'ultima parte che precede poi la caduta dello Shah comincia proprio quel giorno lì nel senso che l'estate del 78 è un'estate particolare di scioperi di proteste però da quel momento in poi siamo anche nel pieno Ramadan ricordiamoci che in quei giorni l'Iran era in pieno Ramadan e da lì alla fine da quella tragedia poi alla fine del Ramadan quello che succede l'8 settembre e poi tutto il resto insomma si arriverà poi alle settimane cruciali che altro dire ci sono altri riferimenti ovviamente non si capisce mai quando siamo nel presente nel presente 2020 o quando siamo nel 78 in certi momenti siamo chiaramente nel 2020 quando all'inizio lui in farmacia chiede questa medicina e quello gli dice no non ci sono per le sanzioni quindi chiaramente siamo in una realtà post rivoluzione però poi dopo invece vedono le scritte con a basso lo sciac poi parlano dello sciac che sta per cadere così come verso la fine noi due ragazzo e ragazza che sono seduti quello a fianco a me sembro io tra 60 anni tra 40 anni ci sono questi giochi se vogliamo questi rimandi non sempre chiarissimi forse non sempre riusciti però io l'ho trovato comunque un film che ha il suo fascino insomma anche queste queste atmosfere le gemelle che si ritrovano lì lavorano nel musico del cinema che è un posto bellissimo io insomma se qualcuno lo ha visitato a Teheran se non lo ha fatto insomma se se gli capita o le capita di tornare a Teheran lo vado a vedere perché è è un posto tra l'altro anche molto molto bello Bageferdusi se non sbaglio si chiami è che è una villa anche molto bella e all'interno hanno costruito questo cinema molto molto interessante ecco io sono non ho molto altro da dire perché capisco pure che il film non è semplice capisco che è tardi capisco che magari vi abbia lasciato un po' interdetti però ovviamente ci sono gli articoli che qui ho linkato o meglio il mio di articolo e poi insomma immagino che magari anche con un po' di tempo si potrà potrete magari ripensarci poi potremo parlarne altre volte per i prossimi appuntamenti allora ripeto io ho un altro paio di film in italiano sottotitolati in italiano ce li ho ho anche un'altra ipotesi che vi volevo proporre cioè in questo momento per esempio io non l'ho ancora visto ma c'è un film che è nelle sale in Iran e che però io potrei proporvi sottotitolato in inglese sarebbe abbastanza interessante perché potremmo vedere un film come dire in contemporanea con Teheran in contemporanea con l'Iran è un film che anche questo parla se non sbaglio è anche di pena di morte quindi potrebbe essere interessante però non è in italiano non ce li ho sottotitoli in italiano un altro paio di film invece con i sottotitoli in italiano sono uno è Botox che non so se qualcuno di voi già ha visto il titolo abbastanza emblematico per l'Iran contemporaneo però anche quello interessante un altro invece è la ballata della vacca bianca Ballad of White Cow sì Maiva Corbet io lo trovo in sottotitoli in inglese ce l'ho anzi non ce l'ho in italiano quindi se se voi vi va di vederlo qui sottotitoli in inglese va benissimo così come c'è un altro film quello successivo cioè di Charammo Cree che si chiama in inglese tradotto con Invasion è andato anche a Berlino se non sbaglio a un festival vi potrei proporre anche quello però io vorrei capire quante persone avrebbero diciamo piacere cioè per quante persone andrebbe bene vederlo con i sottotitoli in inglese non in italiano fino adesso io ho proposto questo è il quarto film se non sbaglio sottotitoli in italiano di film non usciti in Italia perché potrei proporre pure di proporre il cliente o una separazione per dire a parte che forse non avrebbe molto senso ma poi non sarebbe nemmeno quindi è molto igienico visto che sono film che hanno una distribuzione per i quali magari qualcuno si potrebbe pure stranire e chiedermi i diritti visto che qui invece lo facciamo non per guadagnarci ma lo facciamo per vedere qualcosa insieme non è il caso però questo vorrei capire un po' che ne pensate voi poi ricordo che settimana prossima invece vi parlerò di questo film Leila e suoi fratelli che poi in realtà in in persiano è Baradarane Leila cioè i fratelli di Leila io l'ho visto è dello stesso regista di Maitri Shishonim cioè del film di due appuntamenti fa quello sulla droga quello sulla pena di morte ambientato poi a Teheran il stesso suo regista il suo terzo lungometraggio e vi dirò quello che penso di questo film qua che è un film che farà sicuramente discutere pure qui e qui se non sbaglio esce domani nelle sale in Italia in Iran sta facendo discutere anche se non è uscito nelle sale ma è uscito online e tante persone l'hanno visto anche se magari pure incompleto e ha fatto discutere perché ci sono delle cose abbastanza forti interessanti di questo però poi ne parleremo martedì della prossima settimana quindi non vi dico nulla però se vi capita se vi interessa vedetelo così poi ne parliamo a me Botox interesserebbe dire Sara perché mi va incuriosita quando non hai parlato in una diretta allora vada anzi vadi come direbbe Fantozzi per Botox quindi il prossimo appuntamento mettiamo Botox così pure bello pronto con i sottotitoli in italiano diciamo anche che dura molto meno rispetto a questo perché dura se non sbaglio un'ora e mezza un'ora e venti non lo so però è interessante Sandra non so che ne pensano gli altri ma se non sono dialoghi veloci anche i sottotitoli in inglese per me vanno bene va bene Sandra questo magari lo teniamo presente poi per il fuga adesso vediamo quelli in italiano poi se dovessi trovare dei sottotitoli in italiano in più lo faccio vi dico subito che un libro che io un film che sto cercando di sottotitolare è Araghesard cioè Sudore freddo che sarebbe quanto mai attuale interessante perché parla dei diritti delle donne insomma però una storia vera è anche quella soltanto che non c'è in italiano e anche sottotitoli in inglese in realtà non ci sono manco quelli io però ho riuscito non vi sto a spiegare come avrei cominciato a tradurlo ma tradurre un film di un'ora e mezza un'ora e quaranta aiutandomi con l'inglese tendiamoci non sono in grado di sottotitarlo dal persiano ma è un lavoraccio però quello pensavo di trovarli o di riuscirci un po' più velocemente che sarebbe interessante però ecco insomma sono tante idee perché di film interessanti secondo me ce ne sono intanto leggiamo qualche altro commento di questo di film Giorgia che dice l'ho trovato molto ben fatto ma forse vorrei rivederlo mi ha lasciato la sensazione di non aver colto tutto sai che anch'io devo dire la verità dopo dopo averlo visto la seconda volta anche a me forse ho trovato più dubbi che la prima cioè nel senso che non è un film facile ovviamente no l'eterno ritorno dell'uguale questo insomma è la riflessione su quello che stavo dicendo prima ma sapete rivedendolo mi sembra il finale con questo missile che attraversa la notte che attraversa il cielo sembra una sorta di stella comeda del malagurio come dire insomma di qualcosa di non di non buono che avviene che arriva come una sorta di segnale tra l'altro rimane tutto in sospeso perché poi lui lì viene distratto esce dal cinema non 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 dà fuoco sì il finale è davvero potente tra l'altro io devo dire che quella trovata del tipo che sta nel manichino non in quella scenografia che ricorda un po' De Chirico a me ha messo veramente paura veramente pauroso pure se mi dovessi trovare un pupazzo un cosa come quello senza volto in quel modo così devo dire che mi metterebbe abbastanza paura quello devo dire che è un'altra generale ma si sente quindi si sente il gatto quindi un cavolo qui dice il microfono direzionale che dovrebbe che dovrebbe aiutare invece talmente forte il suo macrono sono stato con lui fino adesso questa è una cosa fantastica cioè guarda che è incredibile perché è rimasto da solo penso cinque minuti e adesso sta calmando perché penso che Carla è andata a prendere no vabbè però sì è comunque un un film forte intanto qui c'è Babac Karimi che conosciamo che in cui una volta avevo parlato e ho detto secondo me questo regista è comunque un regista geniale perché è uno che osa è uno che 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 ci prova poi magari forse c'è da pure però devo dire la verità che mi piacerebbe lo faremo martedì perché non voglio anticipare nulla magari un parallelo tra lui e Said Roussaid cioè il regista di Leila e suoi fratelli e di Maitri Shish Onim perché secondo me sono due modi diversi anche due registi diciamo delle nuove generazioni due modi diversi anche di intendere il cinema di rapportarsi poi insomma col film cioè l'idea di come di come fare film ma poi questo insomma no non disturba mica no però gioca sui sensi di colpa questo cioè questo io non accetto capito scherzo però è tremendo è tremendo perché veramente già durante il film io due o tre volte sono dovuto andare a fare compagnia perché mi reclamava vabbè allora non so se ci sono altre cose altrimenti vi ricordo invece l'appuntamento di domani sera domani sera parliamo finalmente direi perché l'ho rimandato tante volte ma insomma non c'era stato modo di farlo prima parliamo con il gruppo di lettura parleremo di Suvashun di questo classico di questo romanzo del novecento iraniano e bisogna scriversi non sarà diretta sui social parleremo tra di noi anzi come ho ripetuto altre volte mi piacerebbe ascoltare anche la vostra insomma per non per non parlare sempre io se viva questo appuntamento se credo che insomma ci dieci diamo adesso una pausa per il per Pasqua per quello che verrà subito dopo e poi il prossimo film appunto sarà uno di questi altri due con sotto tra Botox poi a seguire credo appunto la ballata della vacca bianca che pure questo insomma è un nome strano ma anche lì torniamo a parlare di temi abbastanza drammatici e e basta poi ci vediamo insomma con i prossimi appuntamenti va bene allora intanto vi ringrazio per essere stati qua con noi ricordo a chi è abbonato al canale YouTube quindi poi ho la mia lista glielo rimando il film lo può vedere quando vuole e rivedere insomma tutti gli altri se non l'avete fatto abbonatevi perché così magari insomma c'è modo anche di condividere altro materiale e magari poi vi mando altri link altre cose se ci vengono in mente aspetta anche vostre proposte se ci sono idee per altri film se film di cui avete sentito parlare che non avete mai visto vi piacerebbe vedere ci siamo siamo sempre aperti insomma alle proposte grazie a te Flavia grazie a tutti allora chi ci sarà ci vediamo domani altrimenti ci sentiamo poi per i prossimi appuntamenti grazie ancora a tutti e buona serata